Stop in casa per la Promovol Sanitas nella diciannovesima giornata di campionato di Serie C contro la polisportiva Curno 2010 Volley con il risultato di 1-3 per le ospiti. La buona prova delle Fleresi in casa alla palestra di Maclodio non è bastata per la conquista della vittoria ottenuta al quarto set delle ospiti del Curno, che hanno giocato una ottima pallavolo. Nel primo set subito in campo per Promovol, Marinoni e Turina come lati, Giacomini opposta a Papa, Tomasi e Basalari al centro con Bertoletti libero. La gara inizia in parità con le due squadre che mostrano delle buone giocate. Al servizio potente delle Fleresi, Curno risponde con un servizio preciso e penetrante. Curno prova a scappare via sull'11-13 ma Promovol non ci sta e si fa sotto col 13-13. Di nuovo è Curno a mettere la freccia sul 16-19 con Promovol ad inseguire. Il punto del 20-20 coincide con il timeout dell'allenatore ospite e a rientro in campo Papa serve out. Dopo un lungo scambio Giacomini mette a terra la palla del 23-22. Il set va ai vantaggi e si conclude per 26-24 in favore delle Tigri. Formazione confermata all'inizio del secondo set in casa Promovol. Le locali partono molto bene ma si fanno riprendere. Ancora l'equilibrio la fa da padrona sul 9-9. Sono ancora le bergamasche a tentare di scappare via sull'11-14. Doppio cambio in casa Promovol sul 12-15 con Di Giulio al posto di Giacomini e Salvetti al posto di Papa. Le Fleresi faticano ad ingranare e subiscono fino al 14-18. Con il potente servizio di Marinoni la Promovol recupera lo svantaggio e sorpassa arrivando a 20-19. Anche Basalari ha servizi aggressive e porta le sue sul 22-20. Curno però trova il pareggio vincendo un rocambolesco scontro a rete. Anche in questo parziale le squadre si trovano ai vantaggi continuando a rincorrersi ma stavolta è Curno ad aggiudicarsi il parziale con il risultato di 27-29. All'inizio del terzo set Taramelli schiere il solito sestetto. Subito azioni interessanti mantengono il parziale in parità con Promovol che prova a portarsi in vantaggio sul 6-4 ma le ragazze di Curno rispondono a tono e si portano sul 6-6 e provano a condurre. Le ragazze di Flero subiscono e sbagliano consentendo l'allungo delle Bergamasche che arrivano 12-18. Sul 13-20 Taramelli prova a giocarsi il solito doppio cambio, Salvetti e Di Giulio sostituiscono Papa e Giacomini. Le federesi sembrano riprendere la fiducia ma il buon momento dura poco perché il set scivola lento verso il 17-25 finale. Nel quarto set Di Giulio e Salvetti partono già in campo, ingresso in campo anche per Piantoni al posto di Tomasi e formazione per il resto confermata. La prevalenza iniziale della Promovol ha poco spazio perché comunque Curno non si lascia sovrastare. Sul 9-6 l'allenatore Bergamasco richiama la panchina alle sue ma la positività flerese non si ferma e le Bresciane macinano punti arrivando sul 13-8. Curno riprende fiducia e si avvicina sul 18-16 fino ad agguantare il pareggio sul 20-20 e il sorpasso arrivando 20-22. Uno sfortunato e nervoso finale di set consegna set e partita a Curno con il risultato di 22-25 e il definitivo 1-3 per le Bergamasche del Curno a casa della Promovol Sanitars nella palestra di Maclodio.